Com'è andato il desiderio fratello? E me lo chiedi, come deve andare? Eh, un playboy. Io invece credevo di essere un amante eccezionale. Eh? Perché ogni volta che ci vedevamo, dopo due minuti, lei già... Ma no, ma no. No, è positiva allora. No, non è positiva, perché poi ho capito che quella era l'asma. Perché quando stavamo l'asma, sì, il mobile aveva la pressione. Un scirof. Ci ho fregato!